Lì veramente dovevamo salvare una vita se il defilatore era presente. Il defilatore non era presente, i soccorsi sono arrivati i famosi 6-7 minuti, ma vi ricordo a tutti per l'ennesima volta se vogliamo salvare la gente abbiamo 3, massimo 5, ma non di più, minuti. Per cui questi maledetti minuti passano molto alla svelta. La morte di Romano Scala, 64enne di San Giovanni Valdarno, ha riacceso inevitabilmente i riflettori sull'importanza dei defibrillatori all'interno degli impianti sportivi. L'uomo lo scorso lunedì pomeriggio si è improvvisamente accasciato a terra mentre stava giocando a tennis in un campo sportivo di San Giovanni Valdarno. Un malore improvviso risultato fatale, l'uomo infatti morto dopo poche ore all'ospedale San Donato di Arezzo, dove era arrivato in condizioni disperate a causa di un infarto che non gli ha dato scampo. A chiamare i soccorsi erano stati gli amici dell'uomo che guidati dagli operatori del 118 avevano iniziato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca mentre un altro era corso a prendere un defibrillatore in un quartiere vicino in attesa dell'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza in quanto il dispositivo salvavita non era presente all'interno del circolo. Se le strutture non sono dotate dello strumento e le persone non sono formate all'utilizzo è tutto vano, è tutto chiacchia, è tutto fumo. Noi siamo una delle province più cardioprotette d'Italia e abbiamo ancora questi buchi e il resto è l'Italia? Cioè piangere le persone senza provare a salvarle non è più accettabile dal punto di vista etico anche. Prima si prova a salvarle, poi si piangono dopo quando non è possibile farlo. Io sono una cosa certa e ve la dico, quando c'è un defibrillatore, quando c'è una persona informata, le persone si salvano. Esiste anche una legge regionale, la 68-2015, che ha introdotto l'obbligo dei defibrillatori in tutti gli impianti sportivi. Ma è possibile che ancora in Italia ognuno faccia il che gli pare? Ma è possibile che in Italia non ci debba essere mai qualcuno che gli dice no, te chiudi perché non rispetti la legge? Io spero che questa vicenda qui faccia cambiare il passo a qualcuno che ancora oggi non ha messo i defibrillatori in ambiente sportivo e che passi la cultura e lo sport in sicurezza. Basta di vedere queste morti, basta.